Il caro Mutui frena il mercato immobiliare, cala il costo dei finanziamenti, ma la BCE deve accelerare il taglio dei tassi. È la sintesi dell'ultimo studio Fabi, la Federazione Autonoma Bancari Italiani, ci spiega meglio Paolo Mancinelli. Il mercato immobiliare italiano è in crisi dopo l'impennata dei tassi di interesse provocata dalla politica monetaria restrittiva della Banca Centrale Europea. A lanciare l'allarme è il sindacato dei bancari italiani, la Fabi, che sottolinea come le famiglie, dopo essere state duramente colpite dall'inflazione e dalla crisi energetica, sono restie a indebitarsi per l'acquisto di un'abitazione e misurarsi con dei tassi sui Mutui, che sono triplicati passando dall'1,45% di gennaio 2022 al 4,40% di dicembre 2023. Nei primi nove mesi del 2023 le compravendite sono calate del 12% e solo il 41% di chi compra casa sceglie di accendere un mutuo. Così, dopo la sostanziosa crescita di 35 miliardi registrata nel biennio 2021-2022, il mercato dei mutui immobiliari l'anno scorso ha segnato una perdita di oltre 2 miliardi. Il sindacato dei bancari, pur riconoscendo come l'aumento dei tassi abbia favorito fino ad ora i guadagni delle banche, chiede ora un'inversione di rotta alla BCE. Spero che il taglio dei tassi possa arrivare già nella riunione della BCE di maggio. Se i tassi caleranno rapidamente, le banche potranno tornare a finanziare il settore immobiliare agli stessi livelli del passato. Secondo la FAB, infatti, un mancato intervento potrebbe mettere in crisi l'intero sistema economico italiano e la riduzione dei tassi faciliterebbe il compito delle banche nel finanziare lo sviluppo sociale ed economico. Grazie. Grazie.